Un saluto da Jack Bonora, ci avviciniamo a grandi falcate verso il Battle of Malta dal 20 al 26 aprile, questo fantastico torneo da 500.000 euro di monte premi garantito. È un torneo di caratura europea, ben lo sappiamo, ma non sarebbe nemmeno sbagliato dire mondiale perché arrivano veramente ladovunque i giocatori, o almeno sono arrivati sempre ladovunque, poi sappiamo bene che la pandemia ha fermato questa magica Kermess, ma siamo pronti per ripartire. Un torneo di alto livello mantiene però inalterate le sue caratteristiche perché parte assolutamente dal territorio, dai circoli. Francisco Legnaro, brand ambassador, ha già fatto un grande lavoro. Abbiamo avuto quattro tappe, mi aiuto con la lettura perché veramente ho tante cose da dirvi e voglio essere molto analitico. Intanto abbiamo Padova, Mantova, Torino e Prato, queste prime quattro città toccate. Non dimentichiamo che per quanto riguarda Padova abbiamo anche proposto una interessante diretta con Mario Sfameni, padrone di casa, con Francesco Legnaro, appunto brand ambassador, con Cesare Antolini che si occuperà della comunicazione insieme al sottoscritto. È un grande torneo, è un evento di altissimo livello, lo ribadisco 500.000 euro di monte premi garantito e 550 euro di baine. È innegabile che la pandemia sia stato un problema enorme per tutto il mondo, su questo non si discute, lo è stato certamente anche per il mondo del poker che ha pagato pesantemente Dazio. Però i grandi organizzatori hanno la capacità, senza ombra di dubbio, e questo è un elemento che non possiamo non mettere in evidenza, di trasformare le problematiche in opportunità. E quindi si va a creare una bellissima sinergia fondamentalmente tra il live e l'online ed è finalizzata principalmente a dare la possibilità ai giocatori amatoriali di partecipare al grande evento a fronte però di un investimento tutto sommato contenuto. E allora andiamo a vedere la formula perché secondo me è molto molto interessante. Intanto il baine è di 250 euro. Sappiamo che il torneo è un 5,50 di iscrizione, ma in Italia è consentito al massimo un baine di 250 euro. Ecco perché si agisce con questo importo. I bui sono gli stessi del live, cambia la durata ovviamente perché i livelli hanno un rapporto diciamo 1 a 4 perché logicamente online è tutto molto più rapido che non live. Nel live si qualifica peraltro il 15% degli iscritti al day 1 che viene scelto. Per quanto riguarda invece l'online praticamente avremo un qualificato ogni 16 iscritti. E che cosa succede? Succede che nel live, beh non sappiamo, caratteristica del battle, al day 2 si è già in the money. Questo è un elemento che è piaciuto peraltro moltissimo. E questo vale ovviamente anche per il live. Ecco perché a quel punto il giocatore si troverà immediatamente accreditati 700 euro sul conto e logicamente il pass per partecipare al day 2 già in the money con il sogno di portare a casa il trofeo e logicamente il ricco assegno del mitico Battle of Malta. Stiamo facendo veramente le cose in grande, abbiamo tanta voglia di rivedervi, abbiamo tanta voglia di riabbracciarvi al Battle of Malta. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie.